La qualità della relazione si basa sulla capacità di medesimarsi nell'altro. A 45 anni non ha ancora capito cosa vuole fare da grande. Poi il medico lo sono iniziato pazzo. Se noi colleghiamo due cervelli umani, il nostro macchinario leggerà nel pensiero. Puoi venire un attimo? Voglio solo vedere se funziona una cosa. Oh, che nozio! Oh, oh, oh! Sei Andrea, sì. Sofì, non so come sia successo. Dovrebbe solo trasmettere i pensieri. Adesso sembra che abbia scambiato proprio tutta la mente. Oh, cazzo, c'ho la figa. Tu noti qualcosa di diverso di me? Diamo il nostro buongiorno oggi a Sofia Valente. Mamma mia, che cosa sei. Molto elegante, complimenti. Una giornata di merda. Ma io ho una relazione con la mia babysitter. E che mochi è da me? Michele, sono io Andrea. È tutto sbagliato! È tutto molto sbagliato! Ce ne rendiamo conto? Hai portato tutti i nostri conti da un avvocato divorzista. Ma che ne sai, scusate? Ho visto come un flash il tuo ricordo. Io non ci voglio stare con una che appena può mi girare le spalle. Ma che ti ho appeso? Era l'unica coppia decente che conosca, l'unica! Non vedete più l'immagine bella che avevate dell'altro? Mi manca come eravamo. Non vedete più l'unica coppia decente che conoscavano.